La sentenza Kafka Era una bellissima mattina primaverile, di domenica. George Bendenman, giovane commerciante, era seduto nella sua camera, al primo piano di una delle case basse, dai muri sottili, che in lunga fila si susseguivano sulla via del fiume, differendo l'una dall'altra, quasi unicamente per l'altezza e la tinta. Aveva appena terminato di scrivere a un suo amico di gioventù, che abitava all'estero. Suggellò pian piano la lettera, attardandosi, e poi, appoggiati i gomiti alla scrivania, si mise a guardare il fiume, il ponte e le colline coperte di verde pallido, che sorgevano sulla riva opposta. Ripensava ai casi di quell'amico. Insoddisfatto dell'esistenza in patria, qualche anno prima si era rifugiato, ed è la parola esatta, in Russia. Ora, svolgeva un'attività improprio a Pietroburgo, da principio assai bene avviatasi, ma che da tempo sembrava stagnare, così almeno si lamentava l'amico, nelle sue sempre più rare visite. Sicché andava arrabbattandosi senza risultato in terra straniera, e un esotico barbone serava malamente i tratti ben noti sin dall'infanzia, mentre il colorito giallognolo del viso pareva denunziare una malattia già in atto. Secondo quanto diceva, non era riuscito a stabilire laggiù rapporti con la colonia dei suoi compatrioti, e neppure o quasi relazioni sociali con famiglie del luogo. Perciò si disponeva ormai definitivamente a una vita di ceribato. E in quali termini scrivere a un uomo simile, che evidentemente aveva sbagliato strada, che si poteva commiserare ma non certo aiutare. Consigliargli forse di tornare a casa, trasferire qui la propria esistenza, riannodare tutte le antiche amicizie, cose a cui non si frapponevano ostacoli, e per il resto fidare nell'appoggio degli amici. Ma era come dirgli, in parole tanto più umilianti quanto più erano gentili, che i suoi tentativi erano falliti, che ormai era meglio vi rinunciasse, che doveva non solo tornare in patria, ma anche sopportare di essere guardato da tutti con un tanto d'occhi, come un rimpatriato, che solo i suoi amici avevano un po' di buonsenso, mentre a lui, ragazzo invecchiato, non restava che seguire il loro esempio, rimanere a casa e cercare di far fortuna. Ed era poi sicuro che mortificandolo così avrebbe raggiunto lo scopo? Forse non sarebbe neppure riuscito a farlo tornare. Non diceva lui stesso che ormai le abitudini della patria gli tornavano incomprensibili? Ed egli, nonostante tutto, sarebbe rimasto là, nel suo paese straniero, amareggiato dai consigli e ancor più freddo verso gli amici. Che, se invece ascoltasse davvero i suggerimenti, e rientrato qui si riducesse più che mai a mal partito, non per colpa di nessuno, si intende, ma per ragioni obiettive, e allora non potesse più ritrovarsi negli amici, ma neanche fare a meno di loro, e soffrisse umiliazioni, e insomma, rimanesse davvero senza amici né patria, non era allora molto meglio che se ne stesse all'estero, là dove era? Date queste circostanze, come si poteva pensare che qui sarebbe riuscito a cavarsela? Per tali motivi, se il contatto epistolare doveva essere mantenuto, era impossibile avviare con lui un vero e proprio rapporto, come si sarebbe fatto senza impaccio con qualsiasi conoscente, anche il più lontano. Da oltre tre anni, l'amico non tornava in patria, adducendo a magra scusante la precarietà della situazione politica in Russia, che a suo dire non consentiva a un piccolo commerciante di assentarsi neppure per brevi periodi, e ciò quando centinaia di migliaia di russi andavano tranquillamente in giro per il mondo. Proprio per Georg, invece, quei tre anni avevano portato molti mutamenti. Dalla morte di sua madre, avvenuta circa due anni prima, e dopo la quale egli faceva vita in comune con il vecchio padre, l'amico era bensì stato informato e aveva inviato una lettera di condoglianza molto asciutta, spiegabile solo con l'ipotesi che da lontano il dolore per un simile avvenimento diventi del tutto inconcepibile. Ma, da allora, Georg aveva preso in mano con maggior risolutezza, così come ogni altra cosa, anche la ditta. Forse, finché la madre era viva, il padre, che nel lavoro non ammetteva interferenze, non gli aveva permesso di esplicare improprio la sua attività. Forse, il padre, dopo la morte della moglie, pur continuando a lavorare nella ditta, si era fatto un po' in disparte. O forse, infine, anzi con ogni probabilità, occasioni fortunate avevano giocato in maniera decisiva. Fatto sta che, in quei due anni, la ditta aveva conosciuto uno sviluppo inatteso. Si era dovuto raddoppiare il personale. Le vendite si erano quintuplicate e si potevano prevedere con certezza ulteriori progressi. L'amico, tuttavia, non ne sapeva nulla di questi mutamenti. In passato, e un'ultima volta forse nella lettera di condoglianze, aveva cercato di convincere Georg ad emigrare in Russia, diffondendosi in particolari circa le prospettive che gli sarebbero offerte a Pietroburgo nel suo ramo di attività. Ma erano cifre trascurabili in rapporto al recente incremento dell'attività di Georg. Né questi aveva avuto voglia di informare l'amico dei suoi successi negli affari e, indubbiamente, lo scrivergliene ora, a tanta distanza di tempo, sarebbe potuto apparire alquanto singolare. Perciò Georg, nelle sue lettere all'amico, si era sempre limitato a trattare gli eventi insignificanti quali si affullano alla mente di chi, in una domenica tranquilla, si abbandona ai suoi pensieri. Il suo solo desiderio era di lasciare intatta l'immagine della città natale, che certo l'amico si era affoggiata in mente durante quel periodo e cui aveva fatto l'abitudine. Così fu che Georg, per tre volte, a intervalli abbastanza lunghi, gli annunziò il fidanzamento di un uomo qualunque con una ragazza altrettanto qualunque, finché l'amico, contrariamente a ciò che Georg si proponeva, non cominciò a dimostrarsi incuriosito da quel fatto singolare. Ma Georg preferiva scrivergli così, piuttosto che confessargli d'essersi lui stesso fidanzato un mese prima con una certa signorina Frida Bradenfeld, giovane di agiata famiglia. Sovente discorreva con la sua promessa di quell'amico e dello speciale rapporto di corrispondenza che intratteneva con lui. Allora, di sicuro, non verrà alle nostre nozze, diceva lei, eppure io ho il diritto di conoscere tutti i tuoi amici. Non voglio importunarlo, rispondeva Georg. So bene che probabilmente verrebbe, o almeno lo credo, ma gli parrebbe di essere coartato e danneggiato. Forse mi invidierebbe e scontento ma incapace ormai di liberarsi dalla sua scontentezza se ne ripartirebbe da solo. Da solo. Lo sai cosa significa? Già, ma se venisse a sapere per altra via del nostro matrimonio? Questo non posso certo evitarlo, ma è improbabile data l'esistenza che conduce. Georg, se hai di questi amici era meglio che non ti fidanzassi. Sì, la colpa è di tutti e due, ma adesso non vorrei che fosse diversamente. E poiché lei, ansimando sotto i suoi baci, aggiunse, però, è una cosa che mi addolora. Egli giudicò che tanto valeva scrivere tutto al suo amico. così sono e così ha da prendermi, si disse, non posso ritagliare in me stesso un altro individuo più di me adatto alla sua amicizia. E infatti, nella lunga lettera scritta quella domenica mattina, partecipava all'amico il suo fidanzamento nei seguenti termini. La più bella novità l'ho tenuta in serbo per la fine. Mi sono fidanzato con la signorina Frida Bradenfeld, una fanciulla di agiata famiglia, stabilitasi qui parecchio tempo dopo la tua partenza. Perciò difficilmente puoi averla conosciuta. Avrò ancora l'occasione di parlarti a lungo della mia sposa. Per oggi, ti basta che sono davvero felice e che questo è l'unico mutamento sopravvenuto nei nostri rapporti. Che d'ora in poi avrai in me un amico felice, non più un amico qualunque. Inoltre, la mia fidanzata, che ti manda a salutare e presto ti scriverà di persona, ti sarà sinceramente amica, ciò che per uno scapolo non è cosa priva di importanza. So che molti impegni ti trattengono dal farci visita, ma non sarebbero proprio le mie nozze la migliore occasione di dare un calcio a tutti gli ostacoli. Comunque sia non farti riguardi e disponi come meglio credi. Con quella lettera in mano, Georg rimase a lungo seduto davanti alla scrivania, il viso rivolto verso la finestra. Un conoscente, passando nella strada, lo aveva salutato e lui aveva risposto appena con un sorriso distratto. Finalmente si ficò la lettera in tasca, uscì dalla stanza e attraversato un piccolo corridoio entrò nella camera di suo padre. Erano mesi che non vi poneva più piede. In realtà non ne aveva bisogno poiché incontrava sempre il padre in ufficio. A mezzogiorno pranzavano insieme in trattoria e la sera ciascuno provvedeva per proprio conto. Dopo cena poi, a meno che Georg, come spessissimo accadeva, si trovasse con gli amici o negli ultimi tempi si recasse dalla fidanzata, solevano trattenersi ancora un po' nella sala da pranzo, ciascuno leggendo il suo giornale. Georg fu stupito dell'oscurità che regnava nella stanza del padre anche in quel mattino di sole. Così forte era l'ombra proiettata da un alto muro ergentesi sul lato opposto dello stretto cortile. Il padre era seduto accanto alla finestra in un angolo tutto adorno di ricordi della povera mamma e leggeva il giornale tenendolo alquanto spostato rispetto agli occhi per controbilanciare qualche difetto di vista. Sul tavolo si trovavano i resti della colazione evidentemente consumata solo in piccola parte. Oh Georg disse il padre facendoglisi subito incontro a che la sua pesante vestaglia si aprì e i lembi gli si sollevarono intorno. Mio padre è pur sempre un colosso si disse Georg qui c'è un buio insopportabile disse poi eh sì piuttosto buio rispose il padre e tieni anche chiusa la finestra? Preferisco così. Fuori fa un becco al duccio disse Georg come riprendendo il filo della frase precedente e si sedette. Il padre tolse di mezzo il vassoio della colazione e lo mise su un comò. Volevo soltanto dirti continuò Georg che seguiva tutto trassognato ai movimenti del vecchio che mi sono deciso ad annunziare a Pietroburgo il mio fidanzamento. Trasse un poco la lettera fuori dalla tasca e poi ve la lasciò ricadere. A Pietroburgo dice il padre sì al mio amico disse Georg cercando i suoi occhi in ufficio è tutto diverso pensò guarda qui come se ne sta seduto imponente a braccia incrociate sul petto già al tuo amico disse il padre calcando sulle parole sai bene papà che in un primo tempo ho preferito tacergli la notizia per riguardo non per altro motivo è un uomo difficile lo sai anche tu ne venga pure a conoscenza attraverso altri mi dicevo benché sia assai poco probabile appartato come vive non posso impedirglielo ma saperlo proprio da me no questo no Georg disse il padre allargando la bocca sdentata ascoltami sei venuto da me in questa circostanza a chiedere il mio consiglio ciò che senza dubbio torna a tuo onore ma questo non è niente anzi è peggio che niente se ora non vuoi dirmi tutta la verità non voglio rivangare qui cose che non hanno a che fare certe cose tutt'altro che belle successe dopo la morte della povera mamma forse anche per quelle verrà il momento e magari prima di quanto crediamo in ufficio parecchie pratiche mi sfuggono forse non perché mi siano tenute nascoste che qualcuno me le tenga nascoste non voglio per ora nemmeno supporlo non sono più abbastanza vigoroso la mia memoria si annebbia non riesco più a star dietro a ogni cosa questo avviene in primo luogo per una legge naturale in secondo luogo perché la morte della nostra mamma fu per me un colpo molto più duro che per te ma dato che ci stiamo proprio occupando di questa faccenda di questa lettera te ne prego non cercare di abbindolarmi è una bazzecola non vale la pena di spenderci il fiato perciò sii sincero hai realmente quell'amico a Pietroburgo Georg si levò in piedi confuso non parliamone dei miei amici mille amici non valgono mio padre sai cosa credo invece che tu non ti riguardi abbastanza la vecchiaia ben dai diritti la tua presenza in ditta ne è indispensabile lo sai benissimo ma se per causa della ditta dovesse andarci di mezzo alla tua salute chiuderai tutto domani no così non va dobbiamo decidere un nuovo sistema di vita per te un cambiamento radicale te ne stai qui tappato al buio mentre in salotto avresti tutta la luce che vuoi assaggia appena la colazione invece di alimentarti come è necessario stai seduto accanto alla finestra chiusa quando l'aria ti farebbe tanto bene no papà mio farò venire il medico e ci atterremo alle sue prescrizioni ci scambieremo le stanze tu prenderai quella sul davanti e io verrò qui non dovrai neppure accorgerti del cambiamento provvederò io a tutto ma per questo c'è tempo intanto sdraiati ancora un po' a letto hai assoluto bisogno di riposare vieni ti aiuto io a svestirti ne sono capace vedrai oppure vuoi andare subito nell'altra stanza e per il momento sdraiarti sul mio letto sarebbe molto giudizioso sai Georg stava a un passo dal padre questi aveva lasciato ricadere sul petto la bianca testa arruffata Georg chiamò il padre immobile a voce bassa Georg pronto si inginocchiò davanti al vecchio e vide in quello stanco viso le pupille d'ardeggiarlo enormi dagli angoli degli occhi tu non hai amice Pietroburgo sei sempre stato un burlone e non hai avuto scrupolo a prendere in giro anche me come vuoi avere un amico proprio là non ci posso credere ma sì ricordati papà disse Georg e fatto alzare il padre dalla poltrona sfilò la vestaglia di dosso il corpo cadente sono quasi tre anni che il mio amico è venuto a trovarci rammento ancora che non ti andava molto a genio almeno due volte ho negato di fronte a te la sua presenza sebbene si trovasse già in camera mia capivo benissimo che lo trovasse antipatico è un ragazzo dal carattere tutto particolare ma in seguito hai conversato più volte con lui molto affabilmente ed io ero così orgoglioso di vedere come lo ascoltavi la sentivi col capo gli ponevi domande se ci pensi non puoi non ricordartene ci raccontò di certi episodi incredibili della rivoluzione russa per esempio che una volta mentre era in viaggio da faria Kiev durante un tumulto aveva veduto su un balcone un pope incidersi una gran croce nella carne viva della mano e poi con la mano alzata implorare la folla tu stesso hai poi riferito quella storia in varie occasioni frattanto Georg era riuscito a rimettere seduto il padre e a togliergli con buon garbo le mutande di maglia che portava sopra quelle di tela come pure i calzini notò che quella biancheria non era pulitissima e si rimproverò di aver trascurato il vecchio senza dubbio sarebbe stato suo compito accertarsi che la biancheria del padre fosse cambiata con la fidanzata non aveva ancora discusso a fondo il problema della sistemazione futura del padre in realtà erano tacitamente d'accordo che egli dovesse rimanere a vivere solo nella vecchia casa ma ora decise tutta un tratto e con la massima fermezza di farlo venire con sé nel nuovo alloggio a ben guardare anzi c'era quasi da temere che quelle cure che si riprometteva di dedicargli dopo sposato potessero giungere troppo tardi portò il vecchio sul letto reggendolo tra le braccia in quei pochi passi ebbe un'orribile sensazione notò che suo padre appoggiandogli si al petto giocherillava con la sua catena dell'orologio stentò anzi a farlo coricare tanto accanitamente si aggrappava a quella catena ma appena fu coricato tutto parve a posto egli stesso si coprì tirandosi la coltre un bel pezzo al di sopra delle spalle poi guardò Georg senza rancore ora ti ricordi di lui non è vero? domandò Georg con un cenno incoraggiante del capo sono ben coperto adesso? chiese il padre come se non riuscisse a vedere se aveva i piedi sotto le coltri o no dunque sei contento di startene a letto? disse Georg incalzandolo con cura sono ben coperto ripetè il padre come se la risposta gli stesse eccezionalmente a cuore sta tranquillo sei ben coperto no gridò il padre senza neppur lasciargli finire la frase gettò indietro la coperta con tale energia che per un momento la si vide fluttuare in aria tutta spiegata e si drizzò in piedi sul letto mentre con una mano sfiorava il soffitto sì tu volevi coprirmi lo so ma la pianta ma non sono ancora coperto e forse questo ultimo mio sprazzo di vigore per te basta è fin troppo certo che lo conosco il tuo amico sarebbe stato lui il figlio che desideravo e perciò lo hai ingannato tutti questi anni perché altra ragione se no credi che non abbia pianto per lui proprio per questo ti chiudi a chiave nel tuo ufficio e che nessuno disturbi il principale occupato soltanto per scrivere le tue menzognere lettere in grussia ma per fortuna un padre non ha bisogno che gli insegnino a leggere nell'animo del proprio figlio e adesso quando hai creduto di averlo sopraffatto sopraffatto al punto di potergli sedere addosso col tuo deretano senza che lui possa muoversi allora il mio signor figlio decide di sposarsi che orgo guardava di sotto in su la terrificante immagine paterna il pensiero dell'amico di pietroburgo che ora a un tratto suo padre conosceva così bene lo attanagliava come non mai lo vedeva sperduto nella lontana russia lo vedeva sulla soglia del negozio vuoto saccheggiato eccolo lì ancora ritto tra gli scaffali sconquassati le merci lacere e i bracci dei lumi a gas spezzati e contorti perché mai se ne era andato tanto lontano guardami dunque ridò il padre e Georg corse verso il letto quasi frastornato per non lasciarsi sfuggire nulla ma si fermò a mezzo perché quella ha alzato le gonne cominciò il padre con voce di falsetto perché le ha alzate a questo modo quella lurida oca e a corroborare il suo dire alzò la camicia tanto da far vedere la cicatrice del tempo di guerra che aveva sulla coscia perché le ha alzate così e così e così li sei aggrappato a lei e per poterla godere senza disturbo hai oltraggiato la memoria della mamma hai tradito l'amico e cacciato in letto tuo padre così che neanche lui potesse più muoversi e guarda un po' se non si muove e ritto senza appoggio alcuno prese a dimenare le gambe esultante di chiaroveggenza Georg se ne stava rincantucciato lontano più che poteva dal padre già molto prima aveva deciso di porre la massima attenzione a tutto per non essere comunque preso alla sprovvista per via traverse alle spalle dall'altro ora ricordò quella decisione da tempo dimenticata e nello stesso istante la dimenticò come quando si infila nella cruna di un ago un filo troppo corto ma il tuo amico non è stato tradito gridò il padre e agitando l'indice avanti e indietro sottolineò energicamente le sue parole c'ero qui io a rappresentarlo commediante non si trattenne dall'esclamare Georg e subito cosciente del guasto provocato si morsicò troppo tardi a me con gli occhi sbarrati la lingua tanto da piegarsi in due dal male precisamente ho recitato la commedia commedia è la parola giusta quale altra consolazione restava il vecchio padre vedovo parla e nel momento che mi rispondi sia ancora vivo per me come figlio che altro mi restava in questa mia stanza sul cortile angariato dal personale infedele vecchio fin nel midollo delle ossa e mio figlio se ne andava trionfante per il mondo concludeva affari che io avevo preparati caprioleggiava dal piacere e passava davanti al suo padre con la faccia compiuta dell'onestuomo credi che non t'avrai voluto bene io che ti ho dato la vita ora si chinerà in avanti pensò Georg potesse cascar giù e sfracellarsi quella parola gli saittò nella testa come una scudiciata il padre si chinò ma non cadde e poiché Georg non si mosse come lui si era aspettato si drizzò di nuovo restatene pur lì non ho bisogno di te tu pensi che hai ancora la forza di avvicinarti che non ti muovi solo perché lo vuoi non sbagliarti vada sono sempre io di gran lunga il più forte da solo forse sarei stato costretto a cedere ma ora la mamma mi ha dato la sua forza col tuo amico mi sono inteso alla perfezione e la tua clientela è tutta qui nella mia tasca ha le tasche perfino nella camicia disse Georg e pensò che gli sarebbe bastata quell'osservazione a screditarlo di fronte al mondo lo pensò solo per un attimo poi via via dimenticava quel che pensava prova ad attaccarti al braccio della tua bella e a venirmi dinnanzi te la spazzo via io dal fianco lascia fare a me Georg fece qualche smorfia come a dire che non ci credeva il padre si limitò a scuotere affermativamente il capo verso il suo angolo a conferma che diceva il vero come me la son goduta stamane quando sei venuto a chiedermi se dovevi scrivere al tuo amico che ti ha rifidanzato ma lui sa tutto sciocchino sa tutto e l'ho scritto io perché tu ti sei scordato di portarmi via l'occorrente per scrivere e per questo sono anni che non viene più lo sa cento volte meglio di te e le tue lettere non le legge le ciancica con la mano sinistra mentre nella destra tiene le mie e le legge agitò il braccio sopra la testa ebblo d'entusiasmo mille volte meglio lo sa gridò si diecimila disse Georg come a dileggiare il padre ma ancora prima di uscirgli dalle labbra la parola acquistò un suono mortalmente serio da anni stavo aspettando che venissi a chiedermelo credi forse che dia importanza ad altre cose credi che legga i giornali no eccettò a Georg un foglio di giornale di chissà com'era finito nel letto un vecchio giornale dal titolo completamente ignoto a Georg quanto hai tardato a maturarti ti è voluta la morte della mamma lei non ha potuto vedere questo fausto giorno il tuo amico sta agonizzando laggiù nella Russia già tre anni fa era giallo da buttare via quanto a me lo vedi bene come sto ce li hai pure gli occhi dunque mi hai spiato gridò Georg forse volevi dirla prima questa parola commentò il padre in tono di compatimento ma ora non serve più e alzando la voce adesso sai che c'era qualcosa oltre a te finora non lo sapevi sì certo eri un bimbo innocente ma più certamente ancora eri un essere diabolico e perciò sappilo io qui ti condanno a morire annegato Georg si sentì spinto fuori della stanza ancora negli orecchi il tonfo prodotto dal padre nel saltar dal letto per inseguirlo sulla scala di cui scese a volo i gradini come scivolando su un piano inclinato rovesciò quasi a terra la domestica che stava salendo per le pulizie mattutine Gesù gridò la donna coprendosi il viso col grembiale ma lui era già lontano come il vento uscì dal portone e di là della strada una forza lo incalzava verso l'acqua già si aggrappava al parapetto come un affamato al cibo lo superò con un volteggio da quel provetto ginnasta orgoglio dei suoi genitori che era stato da ragazzo ancora si tenne stretto con le mani che via via cedevano guardò intensamente di tra le sbarre del ponte un autobus il cui rumore senza dubbio avrebbe coperto quello della sua caduta gridò piano miei cari genitori io vi ho sempre voluto bene e si lasciò precipitare in quel momento passava sul ponte un traffico addirittura sterminato di tra le sbarre Grazie a tutti